allora oggi ultima lezione sulla teoria dei grafi affrontiamo altri due problemi il primo problema che affrontiamo è il problema del minimo albero di coprente ovvero abbiamo un grafo g uguale be solito pesato quindi sempre pesato sugli archi abbiamo una qualche funzione f che associa ad ogni arco e un certo peso partiamo subito con r più diciamo che i pesi sono positivi quindi abbiamo questo grafo ok faccio che ne so così 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 ho fatto un grafo a caso mettiamo dei pesi sono 3 1 2 7 2 5 4 3 9 1 3 che dovrebbero pesati tutti ok quindi abbiamo un grafo pesato il problema è questo quello che vogliamo fare è levare un qualche insieme di archi ok voglio levare un po di archi che quindi è il complemento di dire voglio tenere solo un certo sotto insieme di archi tali che qui questo sotto insieme di archi tenga connesso il grafo ok ricordiamoci cosa vuol dire connesso vuol dire che per ogni coppia devo avere un percorso che va da un nodo a quella all'altro e tale che la somma dei pesi degli archi contenuto è il minimo possibile ok quindi ad esempio che ne so posso facciamo in verde posso adesso a caso è tenere questo ok posso tenere questo posso tenere questo tengo questo tengo questo e questo ok allora questo sotto insieme di archi che ho preso quindi mantiene il grafo connesso beh sì ok perché per ogni coppia di nodi ho comunque ancora un percorso che li congiunge la domanda è la somma è il minimo possibile beh in questo caso è abbastanza facile vedere che no non è il minimo possibile ma tra l'altro ce ne accorgiamo per un semplice fatto che questo nodo qua e questo nodo qua hanno due percorsi che li congiungono ma allora vuol dire che sto sprecando degli archi sto usando degli archi che in realtà non mi servono tant'è che se io ad esempio non prendo questo ok non prendo quello dove c'era il 3 adesso riprendo questi due che avevo preso prima adesso si è formato invece un sottografo sottografo intendo il grafo indotto dagli archi che ho preso dai soli archi che ho preso che per ogni coppia di nodi esiste esattamente un solo percorso che li congiunge perché connettività ne deve esistere almeno uno beh sicuramente una condizione necessaria per essere di peso minimo ok questo sottografo che sto prendendo questo insieme di archi che sto prendendo per forza di cose deve succedere che c'è esattamente un percorso tra le coppie di nodi perché sennò vuol dire che c'è un qualche arco che posso levare e il grafo rimane connesso e questa cosa si può tradurre quindi ci sono due osservazioni che voglio fare quindi questa cosa qua del fatto che non ci che ci sia esattamente un percorso tra ogni coppia di nodi vuol dire che in questo grafo non ci sono cicli ovvero un ciclo è un percorso che parte da un nodo e ritorna in se stesso come questo ad esempio quindi fare così questo è un ciclo quindi il fatto che ci sia solo un percorso tra ogni coppia di nodi vuol dire che non ci sono cicli e convergentemente vuol dire che questo sottografo è un albero un albero ci ricordiamo bene o male cos'era era una cosa che è fatta da un nodo e poi ha come figlio una serie di alberi perché è un albero perché noi possiamo prendere un nodo qualunque ok di questo sottografo quindi il grafo che ha solo gli archi che abbiamo scelto prendiamo ad esempio questo qua in mezzo e poi possiamo appendere il grafo per questo nodo e quindi puoi fare qua quest'arco che era 1 qua quest'arco che era 9 qua questo che era 4 qua questo che era 2 ok poi qua c'è questo qua da 2 qua c'è questo da 5 quindi quando noi abbiamo questo sottografo qua che non ha cicli questo qua è detto un albero perché se noi prendiamo un nodo e appendiamo il grafo per quel nodo ok in questo modo viene fuori un albero bene detto ciò questo sotto insieme di archi che ho preso è un albero ricoprente minimo che è la definizione che stiamo dando che ho dato fino adesso cioè albero vuol dire appunto che non ci sono cicli ricoprente vuol dire che prendo tutti quanti i nodi cioè che il grafo è connesso e minimo vuol dire che il peso di questi archi sto prendendo la somma dei pesi è il minimo possibile questo qua è un albero ricoprente minimo e no no lo si vede abbastanza d'occhio cioè c'è c'è questo 9 brutto che abbiamo preso quindi non sembrerebbe insomma che è un albero ricoprente minimo tra l'altro questo problema in inglese che magari è un pochino più famoso con il nome in inglese si chiama il problema delle mst minimum spawning tree minimo albero ricoprente ok il problema è chiaro è chiaro il problema che stiamo cercando di risolvere ok quindi stiamo cercando appunto un albero ok che prenda tutti quanti i nodi quindi ricoprente ok che usi gli archi del grafo originale e che però il set archi che sceglie sia il minimo la somma dei pesi sia il minimo possibile ok tra l'altro da questa osservazione ne esce fuori anche che per forza di cosi il numero di archi chiamiamo sempre n la cardinalità il numero di archi del labbro ricoprente minimo dovrà per forza di cose essere n meno 1 ok perché perché ho n nodi c'è esattamente un collegamento tra ogni coppia ma allora vuol dire che se ne esistessero n sto facendo una cosa che si chiude in se stessa sto facendo un ciclo e visto che i cicli abbiamo detto che non ci sono per forza di cose il numero di archi deve essere 1 in meno del numero di nodi ok per risolvere questo problema vediamo ci sono tanti algoritmi noi vediamo uno che è l'algoritmo algoritmo eh sì cosa sto scrivendo algoritmo di prima useremo l'algoritmo di prima che è un algoritmo che ci mette o grande di m log n quindi abbastanza efficiente vediamo un po come funziona la cosa stupenda dell'algoritmo di prima è che è identico e quando dico identico intendo veramente identico all'algoritmo di Dijkstra con solo una riga modificata eh ed è il motivo per cui facciamo l'algoritmo di prima perché è proprio l'algoritmo di Dijkstra con letteralmente una riga diversa eh quindi facciamoci un grafetto con abbastanza pochi nodi perché sennò poi le simulazioni vengono lunghe vent'anni ok ok e facciamo quindi 0, 1, 2, 3, 4 ehm e diciamo dobbiamo mettere dei pesi degli archi ovviamente quindi che ne so mettiamo 1, 2, 7, 4, 2, 3 eh quest'altro cross ci mettiamo 2 e qua ci mettiamo un altro 4 ok così ho fatto un grafo pesato questo 2 è riferito a quest'arco sotto e questo 1 è riferito a quest'arco sopra magari per farlo un pochino più capibile mettiamo questo 1 qua così di meno non ci sono ambiguità allora come funzionava l'algoritmo di Dijkstra adesso senza riprendere tutto faccio una min priority Q Q ok poi abbiamo il vettore delle distanze che era inizializzato a adesso faccio proprio che è inizializzato a infinito se ci ricordiamo poi c'era il vettore dei padri quindi che era inizializzato a meno 1 ok e poi cosa che dicevamo? dicevamo beh mentre la dimensione ah no c'è anche un pezzettino dobbiamo inizializzare la coda quindi quello che facevamo è che facevamo Qpush eh di eh eh della coppia S0 ok per ora scriviamo S0 poi vediamo cosa in realtà non è S0 ma è 0S perché prima il peso poi il nodo poi dicevamo mentre la coda non è vuota ok mentre la coda non è vuota prendiamo il il minimo quindi sarà un certo XV ok poi dicevamo che se eh il peso con cui siamo arrivati in un certo nodo è maggiore della distanza minima che abbiamo trovato quindi dividi V allora facevamo un continuo ok altrimenti cosa facevamo eh inizializzavamo la distanza di V uguale X e poi per tutti quanti i vicini per tutti quanti i V nel vicinato di V calcolavamo Y come X più F di eh VV ok e poi cosa dicevamo eh vorrò anche qua scompattare in inizializzazione e algoritmo perché sennò non ci sto ok quindi dicevamo Y è definito come X più l'arco e poi dicevamo che se Y era minore della distanza minima che avevamo trovato per V allora lo mettevamo in coda quindi Qpush di Y V e poi aggiornavamo dicendo che il padre di V è V ok e questo è l'algoritmo di Dijkstra che abbiamo fatto ieri come funzionava? funzionava per bolle era la questione dei fronti creava il fronte di zero poi il fronte dell'arco più piccolo e cose avanti fino a terminare qua e quindi quello che stava costruendo è che stava costruendo praticamente i percorsi minimi qua non ci interessa avere i percorsi minimi qua ci interessa avere una struttura che riesce a raggiungere tutto quanto il grafo ok ma che per raggiungere tutto quanto il grafo deve cercare di spendere il meno possibile deve cercare di sommare come somma Dijkstra che sta usando il minimo possibile allora Prim l'algoritmo di Prim fa due osservazioni la prima osservazione è questa per forza di cose tutti quanti i nodi dovranno essere toccati da questo albero ricoprente ovviamente perché sennò non sarebbe connesso il grafo quindi possiamo scegliere un nodo a caso come una sorgente ovvero da dove partiamo tanto tutti quanti devono essere toccati allora possiamo scegliere un nodo di partenza a caso tanto tutti quanti devono essere dentro alla fine ok e quello che vogliamo fare è costruire man mano questo albero minimo ricoprente allora cosa facciamo partiamo da s e poi diciamo beh sicuramente s dovrà essere collegato a cioè perdono sicuramente tutto il vicinato di s dovrà essere collegato in qualche modo all'albero minimo ricoprente ok ma allora cosa possiamo dire beh che sicuramente se ad esempio questo nodo qua deve essere collegato all'albero minimo ricoprente il modo migliore in cui posso farlo è prendendo l'arco che ho dell'attuale albero minimo ricoprente che costa meno ok quindi io ho un attuale albero minimo ricoprente che inizialmente è solamente il nodo sorgente è un albero stupido con solo un nodo sicuramente se io prendo il minore arco in uscita ok da questo albero che ho attualmente beh allora sicuramente è il modo migliore per espandere l'albero verso quel nodo quindi se io parto da il nodo 0 e ho 3 archi in uscita che sono 2, 1 e 3 beh sicuramente se il nodo con cui mi congiungo con l'arco minimo cioè 1 non fa ancora parte dell'albero minimo ricoprente e 3 ancora non fa parte perché attualmente abbiamo solo s che è 0 allora sicuramente questo qua è il migliore arco che potrò mai scegliere per collegare l'albero che ho attualmente che è attualmente solo 0 con il nodo 3 però questo è quello che fa fondamentalmente in qualche senso già Dijkstra Dijkstra procede esattamente in questo modo aumenta il fronte dei cammini minimi selezionando ogni volta l'arco migliore e quindi cosa farà? prenderà l'arco migliore D a questo punto sarà non più una questione di percorso minimo ma sarà una questione di qual è il minimo costo che ho dovuto pagare per poter aggiungere questo nodo all'albero di ricoprente minimo e quindi il senso cambia ma il codice è lo stesso qua aggiornerò quel costo e poi faccio il discorso sul vicinato come funzionava il vicinato su Dijkstra? su Dijkstra funzionava che noi volevamo espandere il percorso minimo che avevamo fino a v andando verso v e quindi per farlo dovevamo aggiungere al costo che avevamo attualmente il costo dell'arco quindi facevamo x più f di v v però qua non stiamo aumentando un percorso qua stiamo proprio aggiungendo solamente il costo di quell'arco ma allora vuol dire che la nostra y in questo caso non concerne quanto abbiamo pagato per arrivare qui finora perché ci interessa solamente il costo di quell'arco che stiamo aggiungendo al minimo albero di ricoprente e quindi y in questo frangente questa è l'unica riga che cambia di tutto quanto l'algoritmo di Dijkstra per fare l'albero minimo di ricoprente questa y non sarà più x più f di v v ma sarà f di v v senza il più x perché a noi non ci interessa più come ci siamo arrivati ci interessa solo che se noi abbiamo il nostro alberello che stiamo costruendo man mano e vogliamo aggiungere un certo nodo al nostro alberello ci interessa solamente sapere qual è il costo dell'aggiunta di quel nodo al nostro alberello che è f di v v cioè il costo dell'arco se quest'arco lo stiamo aggiungendo e stiamo migliorando la soluzione per questo qua e allora lo mettiamo in coda per essere visitato tra virgolette per essere aggiunto all'albero e ci rissegniamo qual è il padre questo è il concetto generale vediamo adesso come funziona quindi funziona come Dijkstra partiamo come Dijkstra però e dobbiamo mettere quindi una sorgente non abbiamo una destinazione la sorgente la possiamo scegliere a caso mettiamo appunto 0 allora cosa avremo? avremo il solito 1,2,3,4 il nostro vettore D se non metto niente intendo infinito ricordiamoci e avremo il nostro vettore P ok ok se non metto niente intendo meno 1 ok vediamo come funziona e abbiamo ovviamente anche la nostra coda Q questa è la zona della simulazione inizialmente inizialmente faremo Q push di 0 S dov'essere la sorgente quindi avremo 0,0 andiamo qua dentro la coda non è vuota estraiamo e estraiamo 0,0 perché è il minimo ovviamente 0 maggiore uguale infinito? no allora niente continuo beh il costo per raggiungere 0 ovviamente è 0 D di 0 uguale 0 ovviamente perché per raggiungere il nodo 0 all'albero che stiamo costruendo non dobbiamo pagare perché è un singolo nodo ora per tutto il vicinato quindi 3 1 2 ok se questa cosa migliora infinito in questo caso quindi sarà sempre sì facciamo il push e ci segniamo quello là come padre cioè segniamo come padre di quello che abbiamo aggiunto il nodo in cui ci troviamo quindi 0 allora cosa facciamo? aggiungiamo 3 2 ok e mettiamo come padre di 2 0 aggiungiamo 1 3 e mettiamo come padre di 3 0 e aggiungiamo 2 1 e mettiamo come padre di 1 0 che erano questi 3 archi ok quindi noi per intenderci finora abbiamo aggiunto il nostro il nostro alberello che stiamo costruendo per ricoprire tutto a costo minimo attualmente è solo questo e anzi in realtà se vogliamo essere un pochino più precisi cioè in questo momento abbiamo anche degli archi candidati che sono questo, questo e questo questi qua sono archi candidati che però ancora non sappiamo se saranno quelli giusti o quelli no lo vedremo quando entreremo nel nodo ok quindi ok non era evidenziato cosa dicevo quindi chi viene estratto adesso? beh viene estratto 1 3 perché è il minimo quindi abbiamo migliorato la situazione? beh sì perché 3 1 non è maggiore o uguale di infinito quindi l'abbiamo migliorata e allora ce lo segniamo in 3 ce lo facciamo con 1 guardiamo il vicinato il vicinato di 3 chi sono? questo, questo e questo questo lo facciamo con peso 4 ok che è minore di infinito perché attualmente 2 lo riusciamo a fare solo con infinito e quindi ce lo aggiungiamo ok quindi 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 aggiungiamo 4 2 ok mi sono fermato un attimo perché ho notato e mi piacerebbe che volano tasti prima che termino che c'è un errore in questa cosa qua c'è una piccola cortezza in più che va fatta rispetto ad extra non era solo una riga sono due righe da cambiare c'è una piccola cortezza per cui questo algoritmo non funzionerà quindi se ve ne accorgete prima che finisco ditemelo cioè se vi accorgete qual è l'errore ditemelo quindi abbiamo 4 a 2 poi cosa abbiamo? abbiamo 4 a 1 4 a 1 non lo dobbiamo considerare perché? perché a 1 noi ci possiamo arrivare già con 2 che costa meno e quindi e quindi? non ha senso considerare quell'arco ok beh ma tanto noi lo mettiamo in coda poi verrà estratto prima 2 a 1 ok che era già in coda e quindi poi al ciclo dopo cioè quando verrà estratto 4 a 1 questa cosa darà true e quindi farà continuo e quindi non lo consideriamo però ci sei quasi cioè l'errore è da quelle parti ci sei quasi è una cosa un pochino più fine ma same lì ok quindi 4 a 1 invece 1 a 0 non lo mettiamo perché 0 lo facciamo con 0 quindi inutile farlo con 1 ok e ora questo nodo l'abbiamo preso questo nodo fa ora definitivamente parte del nostro albero minimo ricoprente che stiamo costruendo man mano ah e mi sono dimenticato un arco che era il 2 a 4 ci mancava il 2 a 4 ok non disegno subito le cose perché sennò poi non si capisce più niente allora qual è il prossimo che viene estratto? beh il 2 a 1 verrà estratto il 2 a 1 perché c'è 2 a 1 e 2 a 4 che hanno il 2 davanti però 1 è minore e quindi stradiamo prima quello ok quindi prima cosa questa cosa da false allora questo qua viene preso ok e in 1 ci viene messo il costo che abbiamo pagato per arrivare qua che è 2 ok che era quest'arco qua e adesso vediamo il vicinato che è il vicinato di 1 beh abbiamo lui che ce lo mettiamo ok che è 2 2 2 2 2 2 ok poi che abbiamo 4 3 non ce lo mettiamo perché 3 lo sappiamo già fare meglio 7 4 invece ce lo mettiamo perché ancora non l'abbiamo visitato quindi 7 4 ok e abbiamo finito che il prossimo estratto beh 2 2 qua adesso vi dovreste accorgere che c'è qualcosa che non va che qua casca il cavallo non so come si dice questa cosa c'è qualcosa che non va perché ora noi stiamo prendendo questo arco in considerazione che in effetti è la cosa migliore cioè l'albero minimo ricoprente sarà così 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 e poi così probabilmente però noi avevamo già scritto nel parent che il parent di questo era 0 e ogni tanto lo scopriamo con cose che non sono ottime quindi potrebbe capitare che poi alla fine il parent non è quello giusto perché potrebbe capitare qua dentro che è vero che stiamo trovando una cosa che migliora quello di quello attuale però poi magari lo sovrascriviamo con cose che sono peggio di quello che abbiamo già trovato e quindi il parent potrebbe dare la risposta sbagliata come sistemare questa cosa? ci sono un po' di modi ce ne sono un paio quello che uso io di solito è che allora una cosa che si può fare è che invece di aggiornarlo qua il parent lo aggiorniamo dopo il continuo qua mettendo p di v uguale qualcosa il problema è che qualcosa dobbiamo portarcelo in coda quindi invece di fare una coda di coppie possiamo fare una coda di triple ok quindi provo ad aggiustare senza rompere troppe cose quindi quindi invece di fare una coda di coppie facciamo una coda di triple dove abbiamo il peso dove stiamo andando quindi s ok e da dove stiamo arrivando quindi in questo caso facciamo meno uno e stessa cosa dalle altre parti perché in questo modo cosa possiamo fare qua? possiamo devo mettere un eraser più piccolo ok qua cosa possiamo fare? possiamo dire possiamo dire che qua è x di v z ok uguale a q.pop qua cancelliamo l'aggiornamento qua dentro ok lo faremo a tempo debito mettiamo l'aggiornamento del parent dove abbiamo messo l'aggiornamento della distanza perché a quel punto sappiamo che è quello giusto quindi pdv diventa z ok che ce lo portiamo dietro e poi qua ce lo dobbiamo portare dietro che è il nostro padre e allora invece di passare solo y e v passiamo y v e v ovvero il peso dove stiamo andando e da dove stiamo arrivando questo era il piccolo bug che il parent poteva essere aggiornato in modo in debito invece in questo modo se lo facciamo a triple lo aggiorniamo correttamente all'inizio questo qua sarà meno uno perché mettiamo che il parent dell'inizio questo qua è un meno uno il parent e la sorgente è meno uno e poi gli altri in questo modo aggiornandoli quando mettiamo la distanza finale che abbiamo trovato che è la migliore facciamo la stessa cosa anche per chi è quel parent migliore ok ma allora adesso senza rifare tutta la simulazione ok facciamo finta che l'abbiamo fatta cancello cancello qua così ok vediamo se esco a ripristinare la soluzione quello che succederà alla fine questo lo rimetto nero è che avremo preso questo albero minimo ricoprente qua ok ok e avremo che D sarà D e P 0 1 2 3 4 ok avremo che per prendere 1 siamo arrivati da 0 abbiamo preso quest'arco quindi abbiamo pagato 2 e siamo arrivati da 0 per prendere 2 siamo arrivati da 1 e abbiamo pagato 2 quindi qua ci sarà 1 e qua ci sarà 2 per prendere 3 abbiamo pagato 1 arrivando da 0 quindi qua ci sarà 0 e qua ci sarà 1 per prendere 4 abbiamo pagato 2 arrivando da 3 e la coda alla fine ovviamente sarà vuota questo è lo stato finale che otterremo facendo andare algoritmo di prima ok ecco qua ok ora due domande quanto ci costa quindi l'albero ricoprente minimo come facciamo a calcolare una volta che abbiamo finito di eseguire questo passo dell'algoritmo di prima le due domande sono come facciamo a calcolare quanto ci costa questo albero minimo ricoprente prima domanda seconda domanda come facciamo a ricostruire quali sono gli archi di questo albero minimo ricoprente avendo questi dati queste domande sono per voi stefano c allora per per gli archi quindi non il costo gli archi direi che si guarda il il vettore parent e si si trova c'è una lista d'archi si trova che 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 guardando allora la prima casella di regino perché meno 1 non è niente si dice che allora andando dalla seconda casella quindi la casella del nodo 1 il nodo 1 è collegato a cos'è quello? 0 ok quindi c'è l'arco 1 0 poi il 2 è collegato con 1 quindi 2 1 poi 3 0 e poi 4 3 esattamente e tra l'altro effettivamente noi stiamo guardando tutte quante le celle tranne la prima e in effetti il numero quindi di archi sarà n-1 numero di nodi meno 1 che è quello che ci aspettavamo proprio ok perfetto questo è come ricostruiamo la la soluzione come facciamo a sapere quanto costa? Stefano S? allora dovremmo era M più M giusto quello da un arco? non ho capito un momento allora cioè in questo momento allora ci sono due modi fondamentalmente intanto abbiamo gli archi cioè adesso abbiamo trovato quali sono gli archi e la domanda quindi è come facciamo a sapere qual è il costo dell'albero minimo ricoperto? se abbiamo gli archi dell'albero minimo ricoprente? beh innanzitutto contiamo quanti archi abbiamo usato il costo attenzione è la somma dei pesi degli archi ah ok no io pensavo il costo in grandi no no non il costo del tempo il costo proprio della soluzione cioè quant'è la somma allora mi basta sommare il peso? mi basta sommare i pesi degli archi che ho preso sì la soluzione molto semplicemente è ho gli archi calcolo cioè vado a vedermi qual è il peso di ogni arco li sommo in realtà c'è un modo più semplice per trovare la soluzione che è sommare il vettore d perché guarda caso il peso di questo è proprio 2 il peso di questo è proprio 2 il peso di questo è proprio 1 eccetera eccetera cioè se sommiamo d viene proprio la soluzione viene il costo dell'albero ricoprente minimo ok quindi questo è come si ricostruisce la soluzione e come si trova il valore della soluzione il costo computazionale è lo stesso di Dijkstra ovviamente perché l'algoritmo è uguale cambia solo a parte questa piccola minuzia che in realtà forse serve anche per Dijkstra la minuzia del padre dico l'unica cosa che cambia è che qua invece di x più f di v v c'è solo f di v v cambia letteralmente solo questo quindi l'algoritmo è la stessa stessa cosa se usiamo un Fibonaccihip invece di un binary heap per la probability q questa cosa scende a n log n ma di solito anche qua si fa in m log n si usa un binary heap comunque ok e questo è l'algoritmo di prima quindi questo era l'algoritmo di prima per trovare l'MST il minimum spawning tree l'albero minimo ricoprente ok bene questo era il penultimo argomento ora facciamo l'ultimo argomento l'ultimo argomento è questo allora abbiamo un grafo sempre GVE che però questo giro è orientato è diretto ovvero gli archi hanno una direzione ok abbiamo un grafo diretto abbiamo un grafo diretto che non contiene cicli quindi non capita mai ok che esista un percorso che da un nodo rientra nello stesso nodo e questo tipo di grafi quindi un grafo orientato che non ha cicli ha un nome particolare che si chiama magari l'avrete già sentito si chiama DAG che sta per direct acyclic graph cioè grafo senza cicli orientato ok quindi il problema è abbiamo un DAG ok tipo così per dire questo è un DAG va bene perché è orientato e non ha cicli non c'è modo di ritornare nello stesso nodo e il problema è questo fate finta che ognuno di questi pallini ognuno dei nodi è un lavoro che dovete fare che ne so per esempio questo task è cenare ok è un lavoro che dovete fare qua dovete cenare qua dovete che ne so pulire i piatti ok qua dovete cucinare ok ok e che ne so questo qua è dormire insomma avete una serie di cose che dovete fare però per ogni cosa sapete che deve essere fatta dopo delle certe altre cose che è indicato con le freccette ovvero per cenare prima dovete cucinare per dormire prima dovete cenare e che ne so questo qua è mettersi in pigiama per dire ok per dormire sapete che dovete prima cenare e prima mettersi in pigiama non per forza non qualche ordine particolare ma sapete che dovete fare queste due operazioni prima di andare a dormire ok mentre per pulire i piatti dovrete prima cenare e prima di cenare ovviamente dovrete prima cucinare ok il problema è il seguente come faccio a trovare un come faccio a dare un ordine a queste azioni ok in modo che non faccio mai un'azione se non ho fatto prima tutte le dipendenze di quell'azione cioè cosa intendo voglio trovare un ordinamento da dare ai nodi ok che in questo caso sono appunto dei task quindi facciamo finta che questo nodo non esiste ok voglio trovare un ordine chiamiamo cucinare 0 questo 1 questo 2 questo 3 e questo 4 voglio trovare un ordinamento dei nodi ok ok tale che non mi capita mai nell'ordine quando sto facendo qualcosa quando sono arrivato a quel punto sicuramente tutte le dipendenze le ho già fatte prima quindi se quando sto cenando sicuramente ho già cucinato ad esempio 0 che ne so 0 1 2 4 3 ok è un ordinamento valido perché prima cucino è ok lo posso fare poi ceno è ok lo posso fare perché ho già cucinato poi metto in pigiama e lo posso fare perché ho già cucinato che è l'unica cosa che mi serviva poi pulisco i piatti che posso farlo perché ho già cenato e poi mi metto a dormire perché ho già si è cenato che mi sono messo in pigiama quindi ho fatto tutte le cose che mi servivano invece ad esempio 0 0 2 3 1 4 ok non è un ordinamento valido perché 0 ok 2 posso farlo va bene 3 non posso farlo perché non ho ancora cenato perché è dopo quindi il problema è dato un DAG voglio trovare un ordinamento dei nodi tale che quando sono in un certo quando sono arrivato in un certo nodo ho fatto ho già visitato tutti quanti i suoi predecessori fondamentalmente questo problema si chiama il problema dell'ordinamento topologico un ordinamento topologico è esattamente la cosa che ho descritto ok vediamo come farlo questo qua è un algoritmo molto semplice che invece di basarsi sulla ricerca per ampiezza che praticamente sia Dijkstra che prima che percorsi minimi finora si sono tutti quanti basati sulla ricerca per ampiezza questo è un algoritmo che invece si basa sulla ricerca per profondità quindi sulla DFS userà una DFS modificata vediamo come funziona allora ricordiamoci che la nostra DFS ok è una certa procedura ok che prende un nodo X che ha un vettore dei visitati quindi chiamiamolo V ok che è un vettore di booleani che ci dice se il nodo l'abbiamo già visitato o no quindi che ne so 0, 1, 2, 3, 4 facciamo questo esempio qua che inizialmente è tutto quanto false ok e poi cosa fa la DFS quello che faceva è che prima cosa segna che il nodo argomento l'ho visitato quindi V di X uguale true e dopodichè per tutti quanti i vicini quindi for V in vicini di V no scherzone vicini di X ok perché è X il nodo V è visitato for V nei vicini di X cosa faccio? se non ho ancora visitato V allora lo visito quindi chiamo ricorsivamente DFS di V questa era la DFS ok la visita per profondità bene l'algoritmo del topological sort dell'ordinamento topologico aggiunge due righe alla DFS è una piccola modifica della DFS che aggiunge due righe quello che fa è che usa una struttura dati che abbiamo già visto che è lo stack ok usa uno stack e allora quindi prima insieme al vettore V dichiariamo uno stack che chiamiamo S abbiamo uno stack inizialmente vuoto che chiamiamo S e l'unica cosa che facciamo nella DFS è che dopo aver fatto la vista dei vicini facciamo S.push quindi dopo aver finito il for facciamo S.push di X ok per magia non troppo per magia però diciamo per magia se poi svuotiamo lo stack facendo pop l'ordine in cui lo svuotiamo è un ordinamento topologico dei nodi proviamoci allora cosa facciamo e facciamo che chiamiamola DFS a partire da tutti i nodi in un qualche ordine a caso un po' come facevamo per la DFS per le componenti connesse ne chiamiamola in un qualche ordine solo quelli che non abbiamo ancora visitato ovviamente ok quindi quello che facciamo cosa faremo chiameremo inizialmente su 0 perché è il primo nodo che non abbiamo ancora visitato quindi lo chiamiamo qua allora cosa farà beh prima cosa quindi facciamo questo qua è la nostra DFS che sta andando e lo stack lo riempiamo qua direttamente direi lo riempio da sinistra verso facciamo perché non è bello riempirlo così facciamo che lo stack lo riempio a partire da qua dal basso verso l'alto ok la DFS è di 0 cosa fa? segna intanto che 0 l'abbiamo visitato quindi questo diventa true e dopo dice per tutti i vicini se non li abbiamo visitati visitiamoli quindi il primo vicino sarà 1 1 non l'abbiamo visitato allora scendiamo dentro ok siamo dentro 1 a questo punto e cosa diciamo? 1 ora l'abbiamo visitato ok e ora visitiamo i vicini i vicini che sono? 3 e 4 visitiamo 3 per dire ok allora 3 prima cosa lo segniamo con visitato va bene e poi visitiamo i vicini però 3 di vicini ovviamente vicini in questo senso intendo in uscita di vicini 3 non ne ha qua ovviamente sono vicini in uscita ok 3 di vicini non ne ha allora farà s push di 3 quindi qua ci sarà un 3 bene e ritorno alla funzione allora torniamo al passo indietro della ricorsione avevamo visitato 3 il prossimo che visitiamo è 4 ok perché non ha ancora visitato visitiamo 4 lo mettiamo come visitato 4 è un altro che non ha vicini allora farà s push di 4 e andrà sullo stack e ha finito torniamo indietro a questo punto 1 abbiamo visitato tutti quanti i vicini e allora farà s push di 1 0 torniamo a 0 0 ancora un vicino che è 2 quindi chiamerà dfs di 2 2 ora lo segnerà come visitato perché siamo qua 2 è un vicino che è 3 però è già stato visitato quindi non fa niente e allora farà s push di 2 e poi si chiude 0 a questo punto visita tutti quanti i vicini e ora farà il push di 0 perfetto alla fine di tutta questa manfrina se ora facciamo il pop 1 a 1 degli elementi dello stack finché non lo svuotiamo quindi pop esce 0 pop esce 2 pop esce 1 pop esce 4 pop esce 3 quello che ci che otteniamo è un ordinamento topologico controlliamo facciamo 0 perfetto poi facciamo 2 lo possiamo fare poi facciamo 1 lo possiamo fare poi facciamo 4 che lo possiamo fare e poi facciamo 3 che lo possiamo fare questo è l'algoritmo dell'ordinamento topologico come funziona è chiaro? ok no no dimmi per esempio noi abbiamo fatto 0 1 1 3 e poi non ho capito come siamo tornati a 1 allora abbiamo fatto 0 1 ok poi abbiamo fatto 1 3 ok poi 3 ha finito è tornato indietro perché è tornato indietro la ricorsione poi ha visitato 4 ok si di no non avevo capito com'è tornato indietro la ricorsione perché è una ricorsione quindi quando finisce torna cioè se aveva chiamato questa roba qua e direi un for ritornerà subito dopo questa e se c'è altre iterazioni del for continua a farlo ovviamente ok si si grazie ok ok e domanda domanda qual è la complessità di questo algoritmo? è abbastanza banale ma qual è la complessità di questo algoritmo? o grande di W no perché a parte che poi scusami W sono dei nodi? eh nel senso c'è il numero di nodi diamo dei nomi alle cose perché l'importante è no no io pensavo pensavo fosse quello dei nodi ah ok allora chiamiamo n il numero dei nodi ed m il numero degli archi come al solito quindi qual è la complessità? o grande di n allora sento un o grande di n n scusatemi questa qua è praticamente una dfs cioè stiamo facendo un'operazione in più cioè stiamo facendo un push dello stack in più però una dfs e la dfs non ci mette o grande di n abbiamo visto la dfs ci mette o grande di n più m perché il numero di di funzioni che avranno chiamate è n e il numero totale di iterazioni di questo for tra tutte quante le chiamate visto che sono gli archi sarà m e quindi o grande di n più m che è il motivo del perché la dfs o grande di n più m e c'è questo os push in più ma tanto lo viene fatto una volta per nodo ok e poi dobbiamo fare pop ma anche quello viene fatto una volta per nodo quindi è un più o grande di n che dato che abbiamo già un fattore o grande di n più m rimane o grande di n più m ok e questa è la complessità dobbiamo dire altre cose ma direi di no in realtà e questo qua è un semplice algoritmino che volevo farvi vedere per che usa invece della dfs la dfs però è fondamentalmente una piccolissima modifica della dfs per ottenere appunto questo ordinamento topologico tipo per dire mentre i percorsi minimi sono una cosa che è più comune trovare e quindi è un pochino più comune cioè un pochino più facile capire perché potrebbero servire ad esempio l'ordinamento topologico è meno ovvio perché potrebbe servire vi dico in realtà che c'è ci sono delle tecniche per fare che poi magari vedremo se ci capita qualche problema ma ad esempio qualche problema che faremo nelle esercitazioni che serve fare questa cosa qua ma ci sono delle tecniche per utilizzare per fare delle per fare una programmazione dinamica sopra un DAG cioè invece normalmente noi abbiamo fatto sempre programmazione dinamica su vettori normalmente noi avevamo vettori di cosa perché c'è una programmazione dinamica sopra invece si possono fare anche le programmazioni dinamiche in realtà si possono fare anche sui DAG e per trasformare questo DAG in un vettore perché la programmazione dinamica comunque la vogliamo fare su un vettore in realtà si può proprio usare l'ordinamento topologico e l'ordinamento topologico ci dà proprio un vettore su cui possiamo fare una programmazione dinamica perché cioè la programmazione dinamica in qualche modo per qualunque cosa potrebbe per qualunque problema potrebbe capitare sopra chiederà sempre di farci domande su le cose su cui ci possiamo collegare ma l'ordinamento topologico è proprio un un ordine da dare ai nodi in modo che la roba a cui ci possiamo collegare è sempre in avanti e quindi possiamo usarlo per creare il vettore per farci una programmazione dinamica nel caso ci servisse fare una programmazione dinamica sul sul DAG a tal proposito termino questa ultima azione di teoria lasciandovi un problemino il problemino è il seguente il problemino è il seguente dato in input un DAG tipo adesso sto disegnando un DAG a caso e non è significativo ok dato un DAG questo è un DAG ditemi trovare qual è la lunghezza del più lungo percorso in questo DAG ok percorsi quali sono? beh ad esempio c'è che ne so questo fa così questo è un percorso lungo uno due tre quattro basta quattro archi poi cosa c'è? ad esempio anche questo è un percorso un po' stupidotto lungo due ok è un percorso valido la domanda è ditemi qual è la lunghezza del più lungo percorso che se non erro dovrebbe essere questo che è lungo uno due tre quattro cinque ma non è pesato qua no no non è pesato è un ah tra l'altro interessante questo problema si può fare anche nel caso pesato cioè potreste avere dei pesi sugli archi ok e vi potrei chiedere qual è il più lungo percorso dove però lungo vuol dire somma dei pesi quindi sì Stefano C ci consiglia due problemi quindi abbiamo il problema del più lungo percorso nel caso semplice e il più lungo percorso nel caso pesato ok potete sfruttare tutte le tecniche che abbiamo appreso finora quindi dalla lezione 1 fino ad oggi e vi bastano e avanzano per risolvere questi due problemi questi sono i problemi con cui vi lascio domani giusto? allora un attimo allora ci sono domande su tutto quello che abbiamo fatto fino a qua? no oggi no lo vedo tutto perfetto ok allora per oggi abbiamo finito vediamo 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 Grazie.